GESTIRE UNA COMUNITÀ Gestire una comunità è sempre stato come essere il padre di una famiglia numerosa. Padre, non lasci i figli andarsene da casa se prima l'ha nutriti, protetti. Ma che cazzo siamo venuti a fare qua? Siamo venuti per impedire a Gianluca di fare una cazzata. A me che picchi hai pensato. No, te lo dico solo se ci stai. Vorrei chiudere gli occhi una volta sola, senza rivedere mai più quella notte. Ti ricordi di me? Guarda bene. Non ti avvicinare che te scanno. Immagina in tutti gli stanni come erano diventati gli occhi dei figli dei traditori che mi volevano fottere. Vescriviti al nostro canale. Tic Toc Tic Toc Grazie a tutti.